Ciao, sono Sandro Bellucci, sono lo chef docente dell'Istituto Italiano di Cucina e Pasticceria e anche quest'anno sarò il giudice della terza stagione del Miglior Chef d'Italia. Le mie papille gustative sono pronte ad assaporare nuovi piatti. Vi aspettiamo alle race competition di Milano, Caserta e Catania dove verranno selezionati i 30 migliori chef d'Italia che si daranno alla battaglia finale. Che cosa cercano un piatto? Raffinatezza, eleganza, gusto, eccellenza e creatività. Siete pronti a seguirci in questa nuova avventura? Vi aspetto!